C'è una legge, c'erano margini di discrezionalità per quanto riguarda i tempi, la magistratura ha ritenuto di dover decidere in questo senso, se qualcuno pensasse che non è giusto la procura generale può fare ricorso, è nei limiti delle previsioni di legge, personalmente come magistrato sia pure in pensione non ho niente da aggiungere, tutto il resto a partire dalla politica, dalla polemica politica e non è competenza mia.